E si conclude qui, oggi, la vicenda Samarzic, la cherelle degli ultimi giorni finisce qui e direi, meno male, perché si stava andando un po' oltre anche ma Strangelo è un falzo, 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 come dite tutti ragazzi, buongiorno a tutti, indaristi e nonna, buongiorno dall'Olanda, parliamone un attimo che cosa è successo ragazzi, ieri ha parlato a Ausilio, ha detto qualcosa che alcuni dicevano, altri no e cioè che il ragazzo Samarzic ha cambiato le sue richieste chiedendo qualcosa che l'Inter non può dargli questa fonte Inter, fonte più attendibile, è fonte Ausilio, quindi poco da dire per quanto riguarda invece Luca Mastrangelo, ragazzi, che sto vedendo che si è presa una shitstorm anche se c'è molta gente che gli chiedeva, Luca hai qualche novità, anche ieri lui lo diceva nel video ho visto io anche su Instagram, gli scrivevano in tanti, l'ha detto anche lui ma quello che vi dico sempre prima di sparare sentenze ragioniamo come ho fatto anche io con i pifferai magici a dire, stanno dicendo menzogne avevo una sicurezza però potete fare anche voi come ho fatto io, come hanno fatto tante altre persone potete fare anche voi ma prima, ma prima di cominciare a offendere una persona a dargli del buffone del pezzo di questo qua del devi morire sei un buffone sei un sfrutti lì insomma tutte quelle solite schifezze che che siete bravi a commentare io mi rivolgo a quei commentatori lamentoni cronici ormai malati interisti che neanche interisti sono ovviamente di mantenere la calma e di prima prima di parlare verificare un po' le cose perché perché ecco Mastrangelo ha sempre parlato di una fonte vicina al giocatore ha provato l'ha detto anche nei video di questi ultimi giorni ha provato a sentire qualcuno vicino all'Inter non ha avuto nessuna risposta quindi quello che ha detto nei video è quello che abbiamo sentito da parte dell'entourage del giocatore come abbiamo sentito di lui abbiamo saputo anche in questi giorni ma si sapeva già che il rapporto tra la pimenta e il papà agente vendurace del giocatore non è idilliaco è che l'Inter proprio per questo non poteva e non può venire ormai finita ma non poteva venire incontro al giocatore per non rovinare un rapporto lavorativo che dura già da tempo e che si prolungherà nel tempo sicuramente con la pimenta avendo la pimenta vari vari giocatori anche che sono all'Inter avendo preso diciamo l'eredità di Mino Raiola insomma è una figura forte la propria testa pimenta quindi gestisce molti giocatori e quindi ovviamente una società come l'Inter non può rovinare i rapporti con un personaggio così importante nel mondo del calcio per venire incontro ad un ragazzo e al papà più che altro che si impuntano su qualcosa cosa è questa cosa ora Mastrangelo e altre fonti ma la prima è stata Luca Mastrangelo ci parlava di commissioni cosa c'è di vero questo non lo sappiamo per quel poco che so io molto poco io non ho fonti non ho Insider se non qualche amico che è a Milano lavora e quindi mi può dire qualche cosa ma ovviamente non è che chi lavora per l'Inter con l'Inter sa tutto quello che succede in società come vi ho sempre detto molte cose che mi sono arrivate a me io non le ho neanche dette perché si sono amici miei magari quelli che me le dicono non è che amici relativamente però persone che conosco persone che mi fido ma anche loro stessi non mettono la mano sul fuoco su quello che mi hanno detto quindi ora bisogna sentire tutte e due le campane la campana dell'entorace del giocatore è 99% quello che abbiamo sentito dire a Luca Mastrangelo quello della società abbiamo sentito finora solo parlare a Osilio a Osilio ha detto che il ragazzo ha chiesto troppo che l'Inter non si piega a certi giochi quindi fosse questa la verità probabilmente sarebbe un 50 e 50 con quello che ha detto Luca Mastrangelo nel senso che gli accordi erano presi in un certo modo arrivati al momento di mettere la firma sul contratto c'è stata una richiesta diversa da parte del giocatore del papà del giocatore ma comunque del giocatore per commissioni ora qualcuno un uccellino mi ha detto che non è solo un fattore di commissioni ma anche contrattuale in un certo senso anche questo prendiamolo con le pinze io non metto la mano sul fuoco su questa cosa però come vedete ci sono varie voci tutte chi vicino all'Inter chi vicino all'enturace del giocatore o da parte dell'enturace del giocatore ma comunque ci sono varie voci tutte simili ma nessuna uguale che succederà in questi giorni usciranno l'Inter parlerà parlerà anche sicuramente il papà del giocatore abbiamo perso Samaric la querella è conclusa meno male dico io meno male perché stava diventando anche ridicola questa cosa e comunque fa passare in brutta luce in cattiva luce anche l'Inter quindi Samaric sarebbe stato un ottimo acquisto un ottimo arrivo un grande rinforzo per la nostra squadra per il centrocampo ma un giocatore così alla fine è meglio perderlo che averlo perché sia per noi che per lui stesso pensate se dopo tutto questo casino lui fosse venuto il morale nell'iniziare una nuova avventura già non sarebbe più lo stesso e poi potrebbero nascere problemi con alcune frange di tifosi insomma quando una cosa si deve fare o si fa per bene o non si fa quindi bene così che non arriva più Samaric teniamoci sensi quello che dicevo io già settimane fa anche se Samaric ce l'avrei preso comunque ma sensi per quello che sta facendo vedere è che ormai sappiamo benissimo che giocatore è solo il problema suo è solo fisico ma sensi può darci una grande mano quindi teniamoci sensi persona spettacolare di gran cuore e allontaniamoci da queste cose perché ci fanno solo male ovviamente la responsabilità è di tutti di tutti non è solo di uno o di qualcuno ma ragazzi in questo caso io molti hanno attaccato l'Inter vabbè ci sono i soliti lamentoni che devono prendersela con Zang con Marotta con Ausilio con Baccino con chi più ne metta ma pensate una cosa l'Inter nella figura di Zang di Ausilio di Marotta parliamo di Marotta magari che è quello che fa più il mercato il mercato secondo voi è così stupido da perdere un giocatore che voleva acquistare con cui ha trattato con cui è arrivato un accordo al quale ha fatto fare le visite mediche secondo voi Marotta e tutta l'Inter società sono così stupidi da perdere un giocatore così per farsi parlare male poi dietro secondo voi secondo la vostra grande mente da lamentoni del web ovvio che no quindi qualsiasi sia qualsiasi sia il discorso quello che è successo non lo so lasciamo stare vediamo le voci che usciranno magari ufficialmente in questi giorni io vi dico la mia vi ho già detto la mia la società voleva prendere Samartic gli accordi c'erano quando si sono incontrati dopo le visite mediche qualcosa è successo c'è chi parla di richieste folli di Samartic all'ultimo momento c'è chi come Mastrangelo ci ha parlato dell'enturace del giocatore delle commissioni da intestare a uno o all'altro o comunque da suddividere tra il papà la gente del giocatore e la pimenta cosa che non era stipulata in un pre-accordo contrattuale quindi è cosa che l'Inter non può fare per non rovinare i rapporti lavorativi che ha con la pimenta che gestisce anche i giocatori che abbiamo noi quindi tutto qui ragazzi non c'è niente di così particolare niente di così assurdo certo è una storia che fa sorridere ormai era a Milano aveva fatto le visite il ragazzo era pronto per giocare ma a volte gli accordi non si trovano così facilmente e soprattutto ci sono delle cose che noi non possiamo sapere né noi né Mastrangelo né né giornalisti praticamente lo sanno solo i diretti interessati e lo faranno uscire quando vorranno comunque il discorso è questo cioè ballavano dei soldi delle richieste economiche differenti da quelle pattuite in un pre-accordo che poi sia un fattore di commissioni o no lo scopriremo la pimenta parlerà vedremo cosa succederà il rapporto comunque tra la gente del giocatore papà e la pimenta è ormai ai minimi termini vediamo cosa e chi arriverà se arriverà qualcun altro intanto è arrivato Carlos Augusto come vi dicevo in questi giorni ottimo giocatore noi aspettiamo l'attaccante che è quello che più ci serve in questo momento perché Arnautovic va bene come panchinario come dicevo io qualche giorno fa o ieri l'altro ieri meglio tenersi gioco a questo punto che dar via a un giocatore come Dzeko per prendere un Arnautovic che comunque non è un ragazzino ha 34 anni anche lui quindi anche se Dzeko ne aveva 37 ma pure 38 ormai nulla ragazzoli questo è il video quindi comunque vi dico che Luca Mastrangelo abbia detto una verità una mezza verità o una menzogna sicuramente non partita da lui ma da chi gli ha dato queste notizie manteniamo la calma non offendete non c'è nulla da offendere nulla da far partire una shitstorm per nulla per cosa poi anzi poteva benissimo starsi zitto no? quindi ragazzi un bacio a tutti fate i bravi vediamo cosa succede come ho detto anche ieri su questo discorso ci sono voci differenti ma dopo che ha parlato ausilio dobbiamo prendere per buono quello che dice il nostro caro ausilio quindi prendiamo per buono quello anche se qualcosa secondo me e secondo qualcun altro non è chiarissimo vedremo è nulla ragazzi per Arnautovic sapete come la penso per me è il colpo più sbagliato che abbiamo fatto non per il giocatore non per il ragazzo ma semplicemente per l'età e prezzo è per quello che serve a noi a noi serve un titolare Arnautovic è un buon sostituto un bacio ragazzi fate i bravi e non offendete né a Mastrangelo né a nessun altro si critica si può credere o non credere alle persone ma senza offendere se no ai vostri fuffaguru lasciamo perdere amala sempre fate i bravi ciao